ed eccoci a tutti buonasera ben ritrovati con questo appuntamento di formazione che credo anzi sono sicuro sarà l'ultimo della settimana quindi speriamo di lasciarvi con un buon ricordo ma sicuramente Pierpaolo darà dei grandissimi spunti per questo diciamo finale di settimana quindi saluti intanto Pierpaolo ciao Pierpaolo ben ritrovato ciao Riccardo ben trovato a te buon pomeriggio a tutti esatto e buon pomeriggio a tutti coloro che sono collegati che sono come al solito molto numerosi allora Pierpaolo prima di lasciarti un po' la parola e capire che cosa diciamo che cosa ne pensi intanto ti farò una domanda che cosa ne pensi di questa iniziativa e poi andremo a vedere il tuo portafoglio ricordo lancio meglio lancio come al solito i due messaggini uno il webinar registrato e sarà disponibile a partire da domani sul nostro sito che è www.investimenti.unicredit.it nella sezione OneMarkets webinar così come tutti gli altri appuntamenti di formazione che sono organizzati da Unicredit in collaborazione con tutti gli esperti di cui ci avvaliamo e fondamentalmente sfruttiamo per modo di dire le competenze e le esperienze ormai passate due secondo diciamo messaggio importante il box delle domande a vostra disposizione quindi io e Pierpaolo saremo ben felici di rispondere a quelle che sono le domande e le curiosità che voi potrete avere sulle sui nostri prodotti quindi funzionamento strategie eventualmente da parte di Pierpaolo oppure funzionamento relativo alla piattaforma alla piattaforma di Certificate Academy. Ricordo ancora a tutti come è possibile accedere alla piattaforma della Certificate Academy seconda edizione perché ricordiamo appunto questa edizione e la seconda visto il grande successo riscosso lo scorso anno quindi abbiamo voluto insomma riportare in auge questa questa edizione per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono di poter negoziare con del denaro virtuale i nostri certificati quindi dal sito www.investimenti.unicredit.it per chi conosce già il sito sulla destra cliccando sul banner si accede alla piattaforma della Certificate Academy che vi apro in sovraimpressione e dove potrete trovare tutte quelle che sono le diciamo caratteristiche i funzionamenti gli strumenti con cui possiamo è possibile negoziare e dove potrete trovare anche i portafogli degli esperti ma veniamo alla prima domanda allora sperando che non sia troppo difficile che cosa ne pensi Pierpaolo di questa iniziativa e ritieni un'iniziativa utile per approvare al mondo dei certificati avere la possibilità di negoziare con del denaro virtuale si dunque innanzitutto la trovo una bellissima iniziativa la quale ho già partecipato con con entusiasmo lo scorso anno e quindi quest'anno naturalmente sono nuovamente nella in quello che è la squadra degli esperti cosiddetti che 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 danno comunque anche il loro contributo creando dei portafogli è una bella iniziativa anche perché comunque il mondo dei certificati non è solamente capire il funzionamento del prodotto dall'emissione alla scadenza cioè che cosa succede alla scadenza in un mondo comunque effettivamente complesso dove ci sono sappiamo ormai migliaia di strumenti con tantissime tipologie differenti quindi il problema non è tanto capire come funziona un cash collect al termine della vita del prodotto piuttosto che un airbag ma è capire come si comporta poi nel durante e così come tutte le volte che poi si va effettivamente ad investire è fondamentale anche vedere il book come si muove cercare di capire le dinamiche di prezzo che regalano l'andamento di uno strumento finanziario credo che questa iniziativa sia la più adatta per permettere a chi è un po meno pratico di iniziare a sperimentare e quindi a magari chiarire meglio alcuni aspetti detto questo è chiaro è denaro virtuale non si potrebbe fare diversamente e quindi questo non aiuterà logicamente il trader aspirante trader a cimentarsi con quelle che sono le difficoltà emotive della gestione una posizione perché sappiamo che quando si fa comunque una del trading poi l'aspetto emotivo è fondamentale no conta quasi addirittura a volte più della scelta dell'investimento perché perché comunque bisogna essere capaci di gestire le perdite ed eventualmente anche di lasciar correre i guadagni ecco in questo caso naturalmente essendo denaro virtuale come tutti i paper trading cioè il trading appunto su carta non permetterà di capire come si vive la perdita quando c'è del denaro reale eh però però ripeto è molto molto importante vedere il funzionamento dei certificati tra l'altro è una competizione tra gli utenti non tra noi diciamo che poi raccontiamo le nostre perché poi alla fine per noi è più un gioco tra virgolette anche se non è che inseriamo naturalmente gli icing così tanto per è una è comunque un'iniziativa che permette come dicevo prima anche di eh capire un po' anche se con ripeto denaro virtuale capire un po' come i prezzi tendono a tendono a muoversi ad esempio lo vedremo fra poco nel mio portafoglio c'è un certificato che avevo scelto qualche giorno fa eh su bionmit come sottostante purtroppo sappiamo che bionmit nella giornata di di ieri ha perso circa un tredici per cento è arrivata anche a perdere di più e oggi questo certificato chiaramente sta perdendo quanto sta perdendo ecco per chi è alle prime armi anche vedere il prezzo come si muove è una cosa molto importante concludo dicendo che la cosa più interessante a mio avviso è che è vero che è una è un'iniziativa con eh denaro virtuale ma gli icing no cioè i certificati sono reali ecco e questa è la cosa più importante quindi poteva essere tutta una cosa simulata no quindi eh semplicemente di la tua dove pensi che vada il mercato e poi alla fine magari puoi eh acquisire punti o piuttosto che guadagnare virtualmente no qui ci sono proprio degli icing quotati quindi così come io ce li ho sulla mia piattaforma in questo momento con denaro reale dall'altra parte li vedo con denaro virtuale e quindi ecco sotto questo punto di vista la trovo estremamente interessante e dopodiché naturalmente per chi è già molto pratico di certificati diventa una una simpatico momento anche un po' per creare magari il portafoglio ripeto un po' virtuale ma per tutti coloro e sono tantissimi che si avvicinano a questo mondo giornalmente è forse la l'iniziativa più lodevole che c'è tra quelle in circolazione anche perché ecco lo stai facendo vedere tu Riccardo è possibile scegliere tra quattromila ottocento cinquantasette strumenti ci sono anche insomma i cover to warrant ci sono anche i prodotti a leva fissa e quelli a leva variabile però ecco anche se parliamo anche solamente di investment comunque la scelta è veramente ampia sì esatto infatti abbiamo in stesa tutto l'universo dei prodotti unicredit eh ovviamente eh la possibilità di eh negoziale di consultare un po' l'andamento e di vedere effettivamente come si muovono sulla base dell'andamento del mercato del mercato o dei sottostanti di riferimento senti per Paolo una domanda ehm hai usato qualche logica nella costruzione del tuo portafoglio eh o meglio qual era l'idea di fondo eh nella selezione dei tuoi prodotti e ora andrò anche a a diciamo a consultare il tuo portafoglio per farlo vedere agli amici che sono collegati eh e eh insomma dacci un overview di quella che era di quello che è stato appunto la tua idea di base e eh quali strumenti selezionare dunque io mi sono ho scelto per questa edizione di di dedicarmi prevalentemente ai prodotti di investimento quindi ho per ora tralasciato tutto ciò che è con leva e quindi dai vari turbo e i leva fissa e i covered warrant ho tralasciato quel segmento e quindi mi cimenterò eh con con altri in questo caso con altri esperti o comunque con chi vorrà eh orientarsi prevalentemente sul mondo degli investment certificates non è una preclusione la mia anzi diciamo che per per natura sono più trader che altro quindi in realtà utilizzo spesso e volentieri i prodotti a leva però per questa iniziativa pensando proprio al al a chi sta cercando un po' di capire meglio il funzionamento ho preferito concentrarmi sui prodotti di investimento ehm detto questo naturalmente nel mondo dei prodotti di investimento c'è anche qui poi una un ampio ventaglio di opportunità si può andare dagli strumenti con maggiore protezione del capitale a quelli invece più aggressivi e io mi sono orientato lo si può vedere anche un po' da quello che è la composizione che stiamo iniziando a vedere mi sono rientrato comunque principalmente eh anzi in realtà per ora totalmente ma non escludo poi di aggiungere qualcosa di diverso sui cash collect eh di tipo worst of quindi quelli che prevedono come sottostante più di un titolo il motivo per cui ho scelto questa tipologia e eh sono andato prevalentemente ad utilizzare questi strumenti è perché comunque sono quelli che a mio avviso in questo specifico contesto di mercato consentono di godere di maggiori opportunità di rendimento senza però incrementare troppo il rischio cioè ehm il cash collect di base sappiamo che è uno strumento che prevede una barriera posizionata una distanza variabile tra il venticinque e il trentacinque quaranta per cento a volte cinquanta per cento andare su un singolo sottostante chiaramente riduce un po' quelli che sono i margini da parte dell'emittente per andare a creare un'ampia protezione unita ad un sostanzioso rendimento uscire eh sul mercato con uno strumento che invece lavora su più sottostanti permette di allargare un po' le bande e quindi avere comunque una protezione un po' più ampia dei rendimenti potenziali più alti naturalmente questo a costo di correre il rischio di incappare magari in uno dei sottostanti così come è successo per le obiettivi in questi giorni che magari eh non va particolarmente bene quindi la mia scelta è comunque prodotti di investimento e strutture cash collect worst off con opzione autocallable questo è principalmente dopodiché ti ti completo e poi dopo naturalmente ehm magari se sei altre curiosità o se no se vogliamo vedere poi gli strumenti dopodiché ti dico anche che il profilo che ho adottato anche per cercare di capire veramente come si muovono gli strumenti è un profilo di rischio medio alto questo perché eh se mi fosse stato chiesto guarda Pierpaolo costruisci un portafoglio per eh l'investitore dal profilo molto prudente che sta cercando di trovare qualche soluzione alternativa ai titoli di stato o alle obbligazioni che ha molta poca propensione al rischio quindi eh è allergico alle perdite e in qualche modo debba essere un portafoglio che monitoreremo per i prossimi quattro anni e allora probabilmente mi sarei orientato su strutture più difensive ma data la natura dell'iniziativa il tempo di osservazione comunque di un mese circa e quindi voglio dire se io dentro mi ci mettevo strumenti a capitale protetto li mettevamo al prezzo d'altro ieri e fra un mese stavano esattamente allo stesso prezzo quindi capire come si muovevano certificati poi diventava impossibile e quindi ho preferito andare su strutture del profilo di rischio medio alto perché quantomeno si muovono poi se si muoveranno in guadagno sarà ovviamente tutto di guadagnato per per me come 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 classifica tra virgolette virtuale e per chi eventualmente decidesse di prendere qualche spunto se non dovesse essere però quantomeno abbiamo raggiunto l'obiettivo di capire come si muovono ecco perciò l'obiettivo era avere strumenti un po più volatili assolutamente e allora grazie per paolo per la spiegazione e ricordo appunto chi magari si fosse collegato per la prima volta appunto a questa iniziativa che il l'accademi prevede anche delle classifiche delle graduatorie che vedete riportate insomma sono delle graduatorie pubbliche che vedete riportate sul sul sito dove però gli esperti non non rientrano nel senso che gli esperti in quanto tali non rientrano eh tra non rientrano interno delle graduatorie ma noi abbiamo deciso di avvalerci di una serie di esperti ehm per eh capire insomma come vedono i mercati che cosa ne pensano ehm quali sono gli strumenti eh insomma un po secondo loro più adatti al particolare momento ognuno con un suo differente profilo eh oggi abbiamo visto parliamo con con Pierpaolo eh di eh cash collect worst off auto collable e ho visto anche che ci sono varie tipologie di prodotti ho visto che c'è anche qualche maxi cedola eh lunedì eh otto abbiamo parlato con Stefano Fanton di bonus cap top bonus e reverse bonus cap eh ieri con Luca Stellato di covered warrant quindi abbiamo più esperti che spiegheranno e diranno da loro eh in base a quelle che sono le loro magari idee di investimento in questo momento o le loro intuizioni ehm e quindi ovviamente profili differenti poi ovviamente in questo ricordiamolo e come ha detto giustamente Pierpaolo è un'iniziativa educational quindi ricordiamo eh il vero senso o il senso d'iniziativa è una eh diciamo più eh rivolto all'educational piuttosto che allo smanettare arrivare i primi in classifica poi ovviamente se si arriva a primi in classifica che benvenga sicuramente è un ritorno importante è un ritorno positivo però il vero e proprio senso dell'iniziativa è eh capire e sfruttare fondamentalmente una piattaforma che eh utilizza del denaro virtuale per capire o eh iniziare a capire come ehm diciamo si muovono i certificati sulla base dell'andamento del mercato o dei sottostanti di riferimento. Detto questo detto questo io andrei magari a vedere quelli che sono eh per Paolo se tu sei d'accordo i primi certificati eh che hai inserito magari non so se vuoi darmi il codice ASIN e li vediamo direttamente sul sito di Unicredit dove c'è anche la pagina di dettaglio oppure lì vogliamo vedere nella pagina del tuo portafoglio intanto che io si intanto lo vediamo nel portafoglio e poi dopo magari prendi l'IFIN e lo porti di là e poi ti faccio io un commento. Esattamente dimmi tu da dove vogliamo partire se vogliamo andare insomma un po' in ordine. No possiamo partire intanto un po' in ordine anche perché sono intanto specifichiamo che ehm non è possibile eh per le regole di questa iniziativa non è possibile avere più di diecimila euro eh per ogni strumento sul totale di cinquecentomila euro a disposizione quindi vuol dire che chi volesse insomma potrebbe crearsi paradossalmente un portafoglio con cinquecento titoli con quindi c'è c'è no cinquanta titoli da diecimila cinquanta titoli da diecimila e mh io per ora ne ho inseriti una decina come si può vedere poco meno ehm però ecco questo per dire che non c'è in questo momento uno strumento su cui ho puntato maggiormente cioè ho messo comunque l'ipotetico gettone su su tutti gli strumenti allo stesso modo. Quindi sì possiamo partire intanto dal primo che è un cash collect su Deliveriero, HelloFresh e Visa tra l'altro per chi segue i nostri webinar non è la prima volta che parliamo di questo certificato però è a dimostrazione del fatto che quando una cosa ci piace insomma la riproponiamo poi in più di una in più di una salsa no? E quindi anche in questo caso l'abbiamo comunque inserito l'ho voluto inserire in questo portafoglio. Certo ehm Pierpaolo ci fanno una domanda scusami e mi ricollego subito prima che iniziamo appunto il entriamo nel del dettaglio del del prodotto ci chiedono come avviene la valorizzazione della della posizione eh all'interno del portafoglio. Le posizioni allora gli acquisti avvengono ai reali prezzi bid e offer quindi acquisti e vendita avvengono ai reali prezzi di borsa bid e offer eh che appunto sono fornite a borsa italiana e ovviamente essendo noi market maker eh del prodotto sono i nostri prezzi quindi i prezzi che fornisce unicredit. Per quanto riguarda il valore che voi vedete riportato nella colonna di valorizzazione è un prezzo medio e il prezzo medio bid ask che voi poi ritrovate all'interno anche del portafoglio. Infatti lo specifico nel momento in cui consultate quella che è la valorizzazione o quello che è l'andamento del certificato qui lo vedrete come prezzo medio poi l'eventuale acquisto o l'eventuale vendita sarà effettuata al relativo prezzo bid per la vendita oppure offer per l'acquisto fornito dal market maker e da borsa italiana. Eh ho rubato un attimo di tempo per Paolo ma perché c'era una domanda che si collegava a questo. Ok allora avevamo quindi il primo Delivery Hero, HelloFresh e Visa. Sì esatto allora questo è un certificato che mh ho voluto dire il fatto che comunque ho avuto occasione di parlarne anche in altri in altri ambiti forse ne abbiamo parlato anche di recente su class su class in compagnia di Marco Medici sia sotto eh ma comunque il motivo per cui l'ho inserito in questo portafoglio è perché sempre nella logica di voler capire un po' come si muovono dei determinati certificati con caratteristiche un pochino più eh dinamiche e quindi che abbiano modo di muoversi questo è un certificato che ha eh dei premi trimestrali del quattro virgola due per cento quindi è un certificato che ha una potenzialità di apprezzamento annua di oltre il sedici per cento quindi siamo nell'ordine del sedici virgola otto per cento ma il motivo per cui è stato inserito all'interno di la eh del portafoglio per il quale lo sto tra l'altro anche seguendo personalmente è perché già a partire dalla data di osservazione del sedici dicembre quindi praticamente quando termina l'iniziativa al tredici ricordo male il dieci il dieci quindi qualche giorno dopo il sedici dicembre eh si andrà in osservazione oltre che per il pagamento della cedula del quattro virgola due anche per il potenziale rimborso anticipato ora per chi fosse appunto un po' alle prime armi e quindi io mi rivolgo principalmente a a a a coloro che stanno cercando un po' di capire avere un'opzione di rimborso anticipato vuol dire che il certificato naturalmente qualora si soddisfino le condizioni terminerà il suo percorso e verrà rimborsato quindi a quella data cioè quindi il giorno dopo non parte in quotazione sappiamo che per arrivare al rimborso anticipato è necessario che tutti e tre i titoli del basket quindi i tre che abbiamo visto prima rilevino almeno a livello di di strike quindi il livello che avevano all'emissione viene fatta una fotografia se questo è almeno uguale quindi pari o superiore sia al rimborso la situazione attuale vedete che è positiva per due dei tre titoli è negativa per il titolo visa di circa nove punti percentuali quindi non è chiaramente insomma alla portata così facile il rimborso anticipato ma è questo che mi interessa nell'ottica anche del raccontare il certificato perché se i tre titoli fossero stati tutti e tre già molto al di sopra dello strike iniziale ad oggi il certificato potrebbe sul mercato cento due cento tre dal momento che può rimborsare a dicembre cento quattro virgola due a metà dicembre quindi a distanza di un mese cosa poteva dare un punto un punto e mezzo se erano tutti sopra strike poi senza esagerare magari non tantissimo ma comunque sopra strike viceversa avendo un titolo sotto strike il prezzo dal fatto vedere riccardo è di novantasette euro quindi noi sappiamo che se visa si muoverà al rialzo verso lo strike e gli altri due non scenderanno il certificato dovrà andare verso cento quattro quindi c'è più spazio c'è più margine di apprezzamento quindi in ottica di portafoglio dovendo costruire oggi un portafoglio che verrà mantenuto per i prossimi n mesi o anni il certificato ha dalla sua anche il fatto di pagare delle cedole molto alte quattro virgola due a trimestre con una barriera posizionata al sessanta per cento vuol dire che le paga fino a meno quaranta ma per quello che è l'iniziativa e per come dicevamo l'aspetto più didattico anche formativo del capire come si muovono i prezzi la scelta di questo strumento è dettata dal fatto che c'è più spazio per poter salire e quindi far vedere come la scelta di un certificato con un titolo in questo momento un po' lontano dallo strike ma non troppo nell'ordine di 5 6 7 punti percentuali consenta di fare comunque dei guadagni anche sul mese e quindi di vedere il prezzo come si muove in prossimità della data di osservazione quindi questo è il certificato dopodiché se volessi commentarlo come strumento di investimento aggiungerei anche che la barriera che determinerà il pagamento delle cedole e la protezione del capitale è distante il 34 per cento da adesso sul titolo visa e se questo margine venisse mantenuto alla fine il certificato pagherebbe da qui alla scadenza del 2024 ben 51 punti percentuali quindi immaginate no anche parlando per chi si sta avvicinando ripeto ancora una volta a questo mondo la simmetria asimmetria di questi strumenti cioè a fronte di un meno 34 per cento di un titolo tu guadagni il 51 per cento no quindi questa è un po' la caratteristica peculiare quindi il primo strumento è uno un certificato che ha cedole alte naturalmente dei titoli un po' volatili e che tipicamente non vanno proprio a braccetto tra di loro e allo stesso tempo però con potenzialità di apprezzamento già in questo mese no ad esempio c'è chi ci chiede ah ma ci sono certificati che da qui a fine anno possono dare un po' di punti di rendimento ecco questo è uno di quelli perché poi oltretutto aggiungo anche quest'altro aspetto noi abbiamo parlato di 16 dicembre come data di osservazione per il rimborso anticipato ma attenzione potrebbe anche non essere necessario arrivare lì cioè oggi noi compriamo il certificato a 96 e 50 97 euro con visa che quota 212 dollari deve arrivare a 233 quindi la distanza effettivamente ripetiamo è di circa il 10 per cento ma immaginiamo che fra due settimane visa abbia fatto metà del percorso quindi sia salita del 5 per cento magari non sta a 104 ma certificata a 101 ci arriva e quindi noi che l'abbiamo presa 97 senza aspettare la data di osservazione possiamo andare a venderlo ecco perché la scelta di strumenti con queste condizioni e queste caratteristiche certo senti per paolo che facciamo che vuoi facciamo un breve brevissimo recap di come funziona il certificato vuoi che lo faccia io poi sì allora un fatto giusto perché così diciamo andiamo ad abbracciare magari chi non è chi non conosce ancora bene magari il certificato o questi oi certificati comunque in generale allora questo è un cash collect worst of cosa significa worst of in quanto è scritto su un paniere i titoli i titoli sono tre sono delivery delivery hero hello fresh e visa come ha detto in precedenza per paolo è un certificato quanto quindi significa che benché comunque i titoli siano negoziati in valuta diversa dall'euro il certificato prevede l'opzione che anestetizza il rischio cambio e questo viene negoziato un prodotto che viene negoziato in euro è un certificato autocollable significa che il prodotto può scadere prima della sua vita prima del termine della sua vita se alle date di osservazione giustamente come abbiamo detto tutti i sottostanti si troveranno al di sopra di un certo livello e ora vi farò vedere anche qual è il livello come poter trovare anche questi dati altra caratteristica è quella che il certificato trimestralmente pagherà delle cedole condizionate queste cedole sono di 4 euro e 20 ciascuna a condizione che tutti i sottostanti all'interno del paniere si trovino al di sopra della loro relativa barriera in realtà si tiene in considerazione sempre il worst of quindi il peggiore dei tre o il peggiore del paniere però è un po come dire che tutti i sottostanti devono essere di sopra della barriera purché si ottenga appunto il il pagamento del coupon all'interno del kid quindi che e kid è disponibile sul nostro sito sotto il link documento contenente le informazioni chiave trovate che cosa trovate intanto quelle che sono le date di osservazione per il pagamento della cedola e quello che sono gli importi cedolari ricordiamo anche che questo è un è un certificato che prevede l'effetto memoria cioè nel caso in cui ad una determinata data di osservazione non si abbia il diritto di ricevere la cedola perché ipotesi uno dei sottostanti al di sotto la barriera è possibile recuperarlo alla data di osservazione successiva qualora appunto tutti i sottostanti siano al di sopra della relativa barriera è possibile appunto come dicevamo consultare le date di osservazione per il pagamento della cedola e anche le date per il rimborso anticipato come dicevamo è un prodotto che di per sé ha una vita ha una vita definita e una scadenza definita da noi che siamo l'emittente al 26 2024 può scadere in anticipo se l'emittente lo richiama in anticipo e l'emittente lo potrà richiamare in anticipo trimestralmente a partire da dicembre 2021 se tutti i sottostanti a queste date di rilevazione saranno al di sopra saranno ad un valore pari o superiore al cento per cento quindi pari o superiore al loro valore strike iniziale ok ma giustamente come vi diceva per paolo il prodotto essendo votato sull'euro tl x può essere liquidato anche in anticipo quindi qualora il prodotto si sia apprezzato perché uno dei sottostanti ha ripreso forza o ha ripreso quotazioni e non vi interessa tenerlo più in portafoglio è possibile anche venderlo in anticipo quindi ricordatevi anche questo e ricordo anche questa caratteristica i certificati nella loro concezione sono dei prodotti fiscalmente efficienti cioè significa che è possibile compensare le le cedole che vengono pagate dal certificato con le eventuali minusvalenze in portafoglio ok quindi qualora voi abbiate generato delle minusvalenze da altri titoli o da altri strumenti finanziari è possibile che vengano compensate con le cedole pagate dal certificato qui si apre però pierpaolo giustamente un mondo è come sappiamo benissimo che il legislatore permette due tipologie di compensazione il legislatore però permette la compensazione o questa scelta non in base all'emittente ma in base alla banca quindi la vostra banca il vostro broker di riferimento può scegliere se compensare direttamente le minusvalenze approccio 1 cioè il certificato stacca supponiamo che di avere 100 euro di minusvalenza nel nostro zainetto fiscale il certificato staccherà la cedola di 4 euro e 20 questa cedola andrà a decurtare direttamente le minusvalenze nostro zainetto quindi da 100 toglierò 4 euro e 20 ok quindi questo è ovviamente io non incasserò la cedola del certificato all'ordo quindi questo l'approccio 1 approccio 2 invece la compensazione non avviene diretta a minusvalenza il ma viene in questo modo il certificato corrisponderà alla cedola questa cedola andrà a decurtare il vostro prezzo medio di carico che si abbasserà appunto per il valore della stessa e la compensazione avverrà o a chiusura della posizione oppure a scadenza del certificato le banche quindi è solo uno spostamento temporale quindi la compensazione avverrà successivamente le banche possono decidere autonomamente se adottare l'approccio 1 o l'approccio 2 indipendentemente dall'emittente quindi è una scelta bancaria eh volevo ricordare anche questo sì diciamo ricardo questo un po' per tranquillo allora così aggiungo solo 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 una cosa non è stato definito diciamo a livello generale o comunque regolamentare qual è l'approccio giusto e quale sia sbagliato diciamo che tecnicamente mh c'è comunque qualche criterio in più a favore del primo del primo regime di interpretazione quindi quello della compensazione immediata e quindi diciamo anche che per chi ha minusvalenze in scadenza che utilizza i certificati anche per aiutare lo zainetto a svuotarsi eh ha dalla sua il fatto che la stragrande maggioranza degli intermediari adotta questo eh questo sistema qualche altro intermediario adotta l'altro sistema e quindi quindi altre banche però sono diciamo un numero un pochino decisamente inferiore quindi ecco poi è chiaro hai fatto benissimo a specificarlo naturalmente prima di procedere con l'acquisto se si ha l'esigenza di andare a svuotare lo zainetto e quindi utilizzare dei certificati a maggior ragione quando le cedole sono un po' più alte è sempre bene accertarsi prima su quale regime venga utilizzato altrimenti si rischia di fare l'acquisto che non produce gli effetti sperati. Certo ci fanno una domanda e ci chiedono quali sono i certificati la rileggo perché mi si è chiuso il box quali sono i certificati che pagano cedole che invece sono considerate come reddito da capitale cioè ci chiedono se ci sono eh quali sono le le categorie ehm se non se non non erro però non vorrei dire qualcosa non corretto sono i certificati con capitale eh protetto al cento per cento e che pagano delle cedole incondizionate quindi come se fossero tendenzialmente quasi dei bond giusto Pierpaolo insomma assimilabile. Allora esatto devono comunque devono essere presenti due condizioni o venire meno due condizioni dipende da dove lo vogliamo vedere il principio di eh che fa sì che il reddito venga considerato reddito diverso e quindi compensabile con le minusvalenze è un principio di aleatorietà quindi vuol dire che i redditi devono essere incerti e pertanto i certificati con eh protezione condizionata del capitale e cedole condizionate hanno entrambe eh diciamo le caratteristiche perché non c'è né certezza di ritornare in possesso del capitale né certezza di ricevere la cedola. Poi ci sono i certificati che hanno la protezione condizionata del capitale ma le cedole incondizionate qui c'è ne manca una ma comunque prevale la struttura finanziaria del certificato il che vuol dire che se anche le cedole sono incondizionate concorrono alla compensazione perché potresti incassare anche cinquanta euro di cedole incondizionate poi arrivi alla scadenza il sottostante ha perso il settanta per cento ti ritrovi comunque con una perdita e poi c'è il caso invece del capitale protetto con cedole condizionate ed è la stragrande maggioranza dei casi cioè il capitale è vero che è protetto ma la cedola non è detto che tu la incassi e quindi abbiamo quindi la struttura finanziaria è protetta ma la cedola è incerta ecco come hai detto tu ecco volevo solo spiegare insomma un po' un po' arricchire un po' di una risposta qualora esistesse un capitale protetto con cedola incondizionata questo sarebbe un reddito da capitale ma in realtà siamo nell'ambito della teoria perché nel mondo dei certificati strutture del genere non esistono o meglio non sono realizzabili perché altrimenti renderebbero talmente poco che quella cedola sarebbe frazionale veramente e quindi quindi non ci sono casi di questo genere detto questo detto questo così come prima abbiamo fatto la specifica sul regime interpretativo degli emittenti degli intermediari allo stesso modo lo facciamo in questa per questa risposta cioè attenzione al fatto che qualche intermediario e però veramente si contano neanche sulle dita di una mano considera alcuni certificati alcune tipologie certificati quelle dove c'è una protezione del capitale anche non totale benché le cedole siano condizionate li considera come credito da capitale però è una situazione sporadica poi purtroppo quando ci si trova nel mezzo bisognerebbe chiedere chiarimenti all'ufficio fiscale della banca diventa una cosa un po' più complicata ecco però diciamo in linea di massima questi sono i criteri sì esatto io direi in effetti per paolo che il miglior suggerimento come dicevi giustamente all'inizio sempre quello di sentire magari la propria al proprio intermediario per capire qual è il principio o il ragionamento che loro che loro utilizzano e al fine di poter magari rispecchiare quello che la propria necessità magari si acquista un certificato per un per una esigenza fiscale non specifico e poi magari ci si trova che l'intermediario adotta un altro regime quindi ci si scombina un po' la strategia vogliamo vedere il secondo prodotto per paolo allora secondo prodotto andrei per ora in ordine e poi invece voglio vedere volutamente quello su bionmit quindi intanto vediamo il secondo perché continua ad essere un certificato di cui questa settimana credo di aver parlato tre volte il che chiaramente fa presupporre che in qualche modo ci sia un motivo di interesse dietro nei confronti della struttura perché comunque ha caratteristiche effettivamente promettenti e così come ho già avuto modo di raccontare anche in altre occasioni in realtà no no non è che esattamente questo scusami ho sbagliato insomma tab ok ok e come appunto ho avuto modo di ricordare anche in un webinar di recente sempre con il tuo collega marco medici tra l'altro questo è un certificato che è inserito anche all'interno di un del certificatone cioè quel certificato dei certificati e che seguiamo come advisor ma al netto di questo è tutto questo un po' per dare maggiore enfasi alle caratteristiche del certificato che a nostro avviso sono sono comunque valide sia per il tipo di settore su cui si opera e quindi il settore social media che poi sta prendendo tutta un'altra piega ultimamente con il metaverso di cui credo che insomma se ne stia parlando sempre di più e ne caratteristiche del certificato stesso e quindi ecco questo è il motivo per cui ai prezzi attuali mh i prezzi di questi giorni non sono cambiati molto da quelli a cui l'abbiamo inserito nel lo inserito nel mio portafoglio ai prezzi attuali continua ad essere una bella una bella idea prezzo novantotto e trentacinque prezzo di inserimento in portafoglio credo che siamo ancora lì come come valorizzazione ovviamente al momento il mercato è chiuso quindi diciamo ecco comunque sono entrambi valorizzati sì siamo più o meno ancora su su quell'intorno lì struttura mi sembra abbastanza simile quindi che scolle con la bollo con effetto memoria su ovviamente un paniere di d3 e vediamo un attimo la barriera anche in questo caso barriera 60 per cento e scadenza giugno 2024 quindi abbiamo stessa maturity eh finale del del prodotto ok esatto allora diciamo che differenza la vedi anche un po' a cosa serve no poi vedere anche i vari prodotti metterli un po' a confronto tra di loro ah il precedente aveva una data di osservazione al 16 dicembre come abbiamo detto una possibilità di rimborso antecipata con un premio del 4,2 un sottostante che quota al 90 per cento dello strike iniziale e quindi deve recuperare circa il 9 10 per cento e un prezzo di 97 e 50 più o meno erano queste le cose e parliamo di quello di visa qui abbiamo la stessa identica struttura ma con un premio trimestrale più basso perché 3,05 un titolo worst off che è twitter che in realtà è più lontano rispetto al precedente perché perde il 13 per cento e quindi un po' più rispetto al precedente e questo rende un po' più difficile rimborso anticipato a metà dicembre ancora un po' più difficile rispetto al precedente ma il prezzo è praticamente lo stesso allora giustamente a questo punto ci si potrebbe chiedere perché cioè perché quello precedente quota 97 e 50 e questo quota ugualmente 97 e 50 al netto dei decimali no con però da una parte avevamo visa a meno 10 qui abbiamo twitter a meno 13 e quindi queste possono essere comunque anche delle situazioni al di là del fatto del certificato appunto i suoi motivi di interesse nelle situazioni che ci aiutano a capire anche un po' la formazione dei prezzi del certificato cioè qui abbiamo meno 13 e su visa abbiamo meno 10 il visa paga il 4 e 20 questo paga il 3 0 5 tutto ci dovrebbe far pensare che il certificato su twitter dovrebbe quotare meno rispetto a quello su visa e invece quotano praticamente lo stesso prezzo se non addirittura qualcosina in più ecco riccardo questo magari è uno spunto che si può cercare no all'interno dei dei certificati assolutamente sì sì anche questo è un buono spunto interessante ecco giusto trovare appunto tra e anche perché per paolo come ben sai e come hai detto all'inizio webinar i certificati ormai di certificati ce ne sono una mirita ce ne sono tantissime sono noi ne quotiamo più di 4000 prodotti più i certificati prodotti tutti gli altri emittenti quindi un po di ogni tanto si fa un po di stock picking si va alla ricerca delle stocks in questo caso alle ricerche dei certificati che possono permettere di incassare un rendimento interessante avere dei prezzi comunque in linea interessante diciamo che questa questa iniziativa permette anche di conoscere meglio il certificato come si muovono e quindi ragionare un po su quella che sono le idee e le ottiche di prezzo ecco ovviamente sì scusami perché altrimenti così diciamo ho 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 sollevato così un un uno spunto di riflessione ma senza dare un contributo per cercare di capire il perché poi alla fine no abbiamo detto i due certificati sembra che quotino lo stesso prezzo con caratteristiche diverse a cos'è che dobbiamo guardare anche un po' per giustificare i prezzi e capire come si possono muovere innanzitutto la composizione del basket quindi non guardiamo solo al worst off che se ci se ci fermassimo solo al worst off dovremmo fare il paragone uno meno tredici l'altro meno dieci la cedola è più alta su quello del meno dieci quello del meno dieci cuoterà sicuramente di più viceversa non è così quotano praticamente lo stesso prezzo perché innanzitutto nel basket del twitter quello che perde il tredici quindi c'è comunque un titolo che è alfabet che guadagna il diciassette per cento ora è vero che essendo il best off cioè il migliore concorre meno quindi pesa meno nella nella formazione del prezzo ma comunque ha un suo ha un suo ruolo non è che è sparito dal basket ecco il fatto che un titolo possa magari avere un peso decisamente inferiore lo possiamo vedere quando uno dei titoli ha guadagnato ormai il novanta per cento dall'emissione quindi seppure perdesse il venti praticamente non cambierebbe nulla e quindi il delta cioè vuol dire la reattività cioè come il certificato si muove rispetto a questo titolo e sarà molto bassa sul best off cioè sul migliore quando invece abbiamo situazioni comunque ancora vicine allo strike nell'ordine del dieci quindici venti per cento un suo peso quella quella alfabet ce l'ha dall'altra parte invece delivery e lo fresh non stanno guadagnando il diciassette sono positive ma nell'ordine i sei sette punti percentuali e questo è il primo aspetto il secondo è dato dalla volatilità cioè se noi andiamo a guardare la volatilità cioè quanto tipicamente tecnicamente si muovono i titoli e lo fresh e delivery scopriamo che hanno una volatilità cioè quindi le oscillazioni che hanno tipicamente sul mercato sono più ampie nell'ordine per dare una misura immaginiamo circa un 48 50 per cento di volatilità su questi titoli cosa che invece su alfabet abbiamo del 21 per cento quindi vuol dire che il certificato con twitter meta e alfabet in questo momento quota 97 50 così come l'altro perché la volatilità dei titoli è più bassa rispetto a visa e lo fresh e deliver iro perfetto perfetto abbiamo dato anche un quadro diciamo ancora più completo per paolo delle motivazioni per cui insomma ci sono le quotazioni o meglio queste quotazioni senti più paolo dato che siamo più o meno diciamo verso le quasi verso le battute finali nel senso che il tempo scorre sempre abbastanza velocemente io vedo che almeno per queste salvo errore salvo mio errore e di svista le strutture sono abbastanza simili tranne almeno per i primi mentre cambiano in questi ultimi quattro prodotti vogliamo analizzarne uno ed entriamo nel dettaglio di uno oppure vuoi continuare no 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 andiamo subito mi te l'avevo detto che comunque avrei voluto parlarne quindi esatto titolo sicuramente al centro della un po nell'occhio del ciclone al centro dell'attenzione degli ultimi giorni soprattutto di ieri insomma titolone che ha perso ha perso tanto come dicevi tu l'isindie zero 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 hv4 ls 56 giusto era questo il prodotto che dovevamo prendere ok allora lo inquadriamo sul sito per far vedere anche le caratteristiche e la nostra pagina prodotto ok lascio a te il commento allora innanzitutto eh diciamo che il basket è composto da questi tre titoli snap uber e bion mit dove snap è positiva del sette per cento uber perde il diciassette bion mit meno trentaquattro per cento di cui praticamente eh quasi quindici punti percentuali li ha persi solamente nella giornata ieri ora la prima cosa che mi interessa far vedere e poi parliamo anche in prospettiva eh perché questo certificato ehm quota in questo momento questo prezzo e soprattutto per quale motivo è una bella storia da raccontare facciamo veramente come se fossimo insomma con una calcolatrice in mano facciamo due conti molto semplici no allora il certificato è stato emesso a cento euro come gran parte dei certificati insomma questo è il prezzo canonico il quindici di luglio ha osservato il valore dei sottostanti per pagare la prima maxi cedola quindi una prima cedola più alta era di quindici punti percentuali quindi ecco il certificato che si riaggancia al discorso di prima sulle minusvalenze poteva essere utile per recuperare le minus e questa è proprio la tipologia no quindi chi ha bisogno di recuperare i minus e di azzerare lo zainetto il più possibile è questa la tipologia preferita no quella più adatta i maxi cedola maxi cupola quindi ha pagato quindici punti percentuali a metà luglio dopodiché a ottobre ha pagato una prima cedola che utilizzerei il l'aggettivo normale ma tanto normale non è perché è una cedola comunque di tre virgola nove punti percentuali a trimestre quindi dopo aver pagato il primo quindici adesso ha pagato intanto un altro tre virgola nove quindi sono diciotto virgola nove euro di cedola cento è il prezzo a cui abbiamo ipoteticamente acquistato all'emissione no immaginiamo una persona che ha appena visto il prodotto l'ha comprato a cento euro appena partito ha incassato finora diciotto virgola nove euro quindi in realtà di prezzo di carico al netto di queste cedole cosa circa ottantuno euro questo più o meno è il suo prezzo cosa ha fatto bion mit dall'emissione cioè nello stesso tempo ha perso il trentacinque per cento del suo valore ora il certificato sul sul mercato lo troviamo oggi a settantacinque euro settantasei vediamo qui quindi cosa vuol dire che praticamente innanzitutto a fronte di un meno trentacinque ha già perso meno perché ha perso il ventiquattro ma in realtà non è così apparentemente ha perso il ventiquattro ma considerato che di questi ventiquattro punti diciannove sono di cedole che sono state nel frattempo pagate chi ha comprato questo certificato ed è rimasto incastrato in questo momento nel crollo di bion mit sta perdendo solo sei punti ora sei punti per guadagnarne potenzialmente sedici all'anno escluso alla maxi cedola quindi scegliere un certificato con queste caratteristiche a cos'è che rende diciamo questa struttura difensiva la barriera al 50 per cento quindi una barriera al 50 per cento dello strike iniziale è una barriera che consente di sopportare agevolmente anche momenti di ribasso importanti come quelle che stiamo vedendo su bion mit un maxi cedola del 15 per cento consente dal momento che è stata incassata alla al mese di luglio quindi poco dopo l'emissione sono tre quattro mesi dopo l'emissione consente di andare a ridurre ulteriormente l'eventuale perdita che uno si trova a sostenere quindi questa tipologia di certificato allora le 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 questioni sono due la prima so che tanti ce l'hanno in portafoglio questo certificato perché perché ne abbiamo parlato diverse volte perché chiaramente attira l'attenzione per i premi molto importanti ora cosa fare oggi di questo certificato io ti rispondo in questo modo naturalmente non ho la certezza che bion mit abbia finito di scendere perché non più di due giorni fa mi ero lasciato andare a un forse il peggio è passato poi la sera alle dieci e mezza ha fatto meno venti adesso sta provando a rimbalzare adesso sta facendo più tre quindi io non so se ha finito di scendere però da adesso c'è un ulteriore ventiquattro per cento di distanza dalla barriera quindi vuol dire che comunque bion mit si deve fare un'altra giornata da meno venti quanto meno o più giornate da più c da meno cinque meno tre e scendere ulteriormente se non lo fa adesso e magari rimbalzicchia poi si ferma da quelle parti non ci serve che torni a cento dollari o a centocinquanta bene pure se si ferma qua si incassano comunque i premi trimestrali e da oggi da oggi a questo prezzo il certificato renderà fino alla scadenza all'ottantaquattro per cento ovvero il trentaquattro per cento anno per andar male deve rompere la barriera chiaramente cosa naturalmente possibile però a quel punto a fronte di un meno trenta per cento la perdita sarebbe del trentanove da adesso quindi si perderebbe un po di questa tenuta che sta mostrando ma ad oggi chi ce l'ha forse ancora presto per buttarlo via anzi potrebbe essere questa un'ottima soluzione per quelle classiche strategie cosiddette switch to recovery cioè ho perso soldi da certificati su bion mit potrei investire su questo perché comunque ha ancora del margine sulla barriera e un ottimo rendimento potenziale però ecco questo certificato mi piaceva farlo vedere perché nonostante l'importante discesa ci sono le due le tre componenti in realtà primo barriera molto profonda cinquanta per cento che naturalmente lo ricordiamo è una barriera europea il che vuol dire si guarderà solo alla scadenza viceversa se fosse stata una barriera continua sarebbe stato ben diverso perché si sarebbe rotta più facilmente anche nel durante e barriera quindi molto profonda premio trimestrale importante cioè avere un premio trimestrale del 3 90 vuol dire che su base anno siamo quasi sotto i 16 punti questo sostiene il prezzo del certificato fin tanto che ci sono probabilità di pagare i premi e poi il maxi premio iniziale che o lo ha incassato o te lo sconto dopo sul prezzo di acquisto quindi la combinazione di questi tre fattori fa sì che il certificato apparentemente oggi a meno 25 nella realtà sta perdendo solo il 6 per cento benissimo molto molto interessante e allora faccio indico un ulteriore un ulteriore caratteristica perché ce lo chiedono tra le domande non è un certificato che ha la memoria o meglio è un certificato che non prevede la memoria a differenza di quei eh dei precedenti prodotti questo certificato non prevede l'effetto memoria quindi non è possibile recuperare le cedole qualora le date di osservazione eh venga rotta la barriera allora corretto è importante ricordare assolutamente sì giustissima osservazione soprattutto diciamo la domanda è ovviamente una domanda coerente visto soprattutto quello che è la situazione di beyond meat quindi ci si preoccupa magari che vada a infrangere la barriera e quindi non vada a pagare quelle che sono allora giustissimo giustissimo ma infatti e quindi ehm sono contento di queste considerazioni di questa osservazione che cosa deve fare l'investitore nei confronti di una situazione del genere ad oggi diciamo che buttare l'acqua con tutti i pesci forse è ancora prematuro quindi uno aspetta un attimo e dice è vero Biomit è in fase decisamente negativa quindi il rischio che possa andare sotto barriera ma ci sono ancora venticinque punti percentuali quindi ad oggi non è proprio ancora necessario poi certo se dovesse perdere altri quindici venti punti percentuali avviene darsi alla barriera a quel punto il prezzo anziché settantacinque sarà presumibilmente sessantacinque d'accordo è chiaro che il rischio di vedere un'ulteriore discesa esiste poi se proprio arriviamo da quelle parti allora si può utilizzare una strategia opposta a quella che ho detto prima ovvero vendere questo certificato e andare a cercarne uno che magari ha la memoria no? E quindi uscire dal prodotto che in quel momento e tanto se uno l'ha presa a cento o l'ha preso a ottantacinque la settimana scorsa ad oggi perde dieci punti certo non fa piacere a nessuno se poi da dieci ne diventano venti però venti punti si recuperano nel senso adesso fammela dire bene è è ancora matematicamente fattibile lavorare per un recupero del venti per cento perché immaginando di aver investito cento ti rimane ottanta con ottanta puoi costruire una strategia che pianificando con sapienza nel giro di due tre quello che sia anni magari recuperi tutto quanto se invece perdi l'ottanta per cento con venti euro arriva a tornare a cento ci vuole la moltiplicazione ai panni e dei pesci quindi non serve e non è sufficiente il certificato né tantomeno la strategia a leva quindi ecco perché dico che a volte anche l'emotività non aiuta razionalmente ad oggi poi certo se uno adesso dice è stato tutto un fallimento la carne carne nessuno piace mangiare la carne finta e allora chiaramente perché dobbiamo rimanere su questo certificato vendiamolo e prendiamone un altro ma viceversa in termini proprio matematici ad oggi e analitici questo certificato è ancora nelle condizioni poter pagare le sue cedole e rendere comunque molto bene e rendere bene senti per paolo allora io in realtà avrei una sfilza lunghissima di domande ma diciamo come sempre il tempo e la coperta è sempre un po cortina quindi io farei rivedere l'ultima volta il tuo portafoglio in modo che chi vuol consultare quelli che sono tutti i prodotti che tu hai inserito possa farlo in autonomia e poi ricordo che cosa ho fatto io fondamentalmente sono andato a diciamo sono andato a guardare quelli che sono gli is in all'interno e nella pagina del prodotto e poi sono andato a vedere le caratteristiche dello stesso sul nostro sito quindi qualora vi interessi analizzare un po le caratteristiche un po le caratteristiche del certificato nel dettaglio potete consultare il tutto sul nostro sito che è appunto ricordo www.investimenti.unicredit.it per paolo io mi rubo anche un attimino per far vedere anche il vostro sito e così abbiamo i vostri contatti che certificati e derivati.it perché come sapete con pierpaolo scandurra e con il team di certificati e derivati diciamo unicredit collabora ormai da tantissimo tempo ci sono una serie di iniziative anche altri webinar insomma legati ad altre iniziative con per paolo ormai in corso da diverso tempo quindi io farei vedere anche il vostro sito per paolo se sei d'accordo certificati e derivati.it dove chi può e chi è interessato magari alle tue strategie e chi è interessato alla logica con cui è creato il tuo portafoglio potrà trovare anche i vostri contatti l'ho fatto per questo motivo in modo che chi vuole contattare te o il team per avere indicazioni su magari non so uno switch to recovery piuttosto che qualche indicazione su come sostituire un certificato con un altro piuttosto che qualsiasi altra cosa magari potrà contattare e magari mettersi in contatto con il tuo team ti ringrazio Riccardo ma vorrei scusami vorrei approfittare visto che siamo sulla mia pagina in alto vedi nella barra c'è il club certificates ecco mi fa piacere visto che siamo in quest'ambito probabilmente alcuni di coloro che sono all'ascolto comunque già lo seguono però il club certificates per certi versi come vedete è una sezione a cui si accede con una semplice registrazione è un po' una sorta di prosecuzione di quello che abbiamo iniziato a fare oggi con 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 la certificate academy naturalmente non c'è denaro virtuale da investire né tantomeno un periodo ma sono in realtà delle ecco lo potete vedere qui delle strategie che vengono proposte e aggiornate di volta in volta e quindi qui abbiamo proprio la situazione dei dei certificati pertanto non so alcuni quelli che abbiamo appena raccontato li ritroviamo poi anche all'interno del club certificates e quindi per chi volesse poi proseguire no anche semplicemente continuando a seguirci potrebbe farlo proprio con con il club certificates benissimo benissimo e allora per paolo io direi che siamo arrivati ai saluti finali e quindi rinnovo l'invito per chi ha delle interesse per chi voglia approfondire le strategie a contattare per paolo e il team e anche registrarsi gratuitamente lo ricordiamo nella sezione del club certificate o consultare il sito appunto di certificati derivati chi invece ha delle necessità o delle domande da porci sul funzionamento del certificato può scrivere ai nostri alla nostra casella email di unicredit che trovate all'interno al di sotto del nostro sito che è appunto info punto investimenti chiocciola unicredit.it o chiamarci al numero verde 800 01 11 22 ricordiamo noi comuni credit non diamo delle view o delle indicazioni su switch di certificati perché ovviamente in questo caso non rientra all'interno della nostra sfera di attività però su indicazioni come funziona un prodotto sa memoria una memoria su come viene costruito e quant'altro sicuramente potremo esservi d'aiuto e diciamo appuntamento ricco come al solito con Pierpaolo gli appuntamenti sono non ricchi ma di più di novità di informazioni di curiosità e quant'altro eh per Paolo io non so come ringraziarti diciamo che abbiamo terminato alla grande la settimana esatto noi abbiamo terminato alla grande insomma naturalmente è stata una settimana molto intensa ma con tante tante abbiamo appunto avuto anche l'appuntamento club certificates quindi è stata una bella settimana assieme e di cui ci siamo scambiati tante opinioni tanti spunti operativi e speriamo che insomma questo possa essere utile per chi decide poi di appassionarsi sempre più a questo mondo dei certificati insomma noi l'impegno ce lo mettiamo e il resto naturalmente poi va fatto eh personalmente no e quindi dedicare il tempo allo studio e all'approfondimento della materia esatto esatto noi appunto come dicevi la passione e l'impegno ce lo mettiamo il resto lo lasciamo a voi e allora Pierpaolo ancora grazie eh per la tua disponibilità e gentilezza grazie per questa ora insieme di formazione buon weekend a te buon weekend a tutti gli amici che sono stati collegati con noi arrivederci al prossimo appuntamento grazie a te ciao Riccardo e buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti grazie a tutti